Rilasciamo con un canto di lavoro, un canto trovato in bagagio montano, la canapa. La cosa che avete sentito da questo canto, l'ultimo canto, quello precedente, è che questo parla proprio della lavorazione della canapa. Il nostro informatore ha dato tre fatti in questo lavoro, che erano la sceglina, il taglio e la grammolatura della canpa, per arrivare alla partizione, per un trappadrone portadino. Ma il bello di questa melodia che sentirete, voci che si ritorno, proprio perché a quell'epoca non vi erano mezzi meccanici, e quindi tutto il lavoro veniva fatto con la forza delle braccia e con la volontà degli uomini. E per sentir meno il peso del lavoro e la fatica, magari un solista iniziava e tornava con la cordina al campo per dare rischio ai suoi compagni di lavoro e quindi questo faceva sì cantare, forse sembrare meno leggero, meno faticoso il lavoro da svolgere. E sentirete nel finale una vera e propria passione per questa canapa, poiché anche se era un lavoro molto duro, dava da mangiare per le famiglie di contese. Grazie ancora per la serata e a voi la canta. Grazie. 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 Grazie.